musica 360 e quindi ragazzi purtroppo non posso appunto includere in questo contest prima di iniziare vi volevo informare che ho aperto ragazzi un profilo instagram quindi se siete interessati e volete seguirmi anche lì dove lì pubblicherò sempre foto inedite tra virgolette insomma dove non le pubblico né su facebook né da nessuna parte e soltanto appunto su instagram troverete giù il link in descrizione quindi ragazzi se mi volete seguire a me fa soltanto che piacere adesso ragazzi parlando del contest questo contest ragazzi appunto potete vincere un account moddato ovviamente in modo totalmente gratuito e questo account ragazzi comprenderà a rango 490 milioni tutto sbloccato abilità al massimo ammunition tutto sbloccato le santos custom tutto sbloccato insomma quello che faccio io solitamente quello che metto io solitamente in una recovery lo metto ragazzi in modo totalmente gratuito su questo account quindi il fortunato vincitore può appunto vincere questo account per poter partecipare ragazzi dovete iscrivervi al canale lasciate un abbraccio a questo video iscrivervi ragazzi al canale di low one che trovate giù nella descrizione condividere ragazzi questo video su facebook e una volta che avete fatto questi step vi basterà ragazzi semplicemente commentare qui sotto scrivendo partecipo e aggiungendo la vostra console ovviamente ragazzi non accetto i commenti con scritto soltanto partecipo quindi non verranno presi in concentrazione nell'estrazione quindi esempio se avete ps3 ovviamente dovete scrivere partecipo ps3 e così via con ps4 ed xbox one per tutti quelli che se lo stanno chiedendo ragazzi è possibile per tutti i possessori di ps3 e soltanto per ps3 poter scegliere se fare un account nuovo o modare quello già esistente quindi se avete già un account dove state giocando attualmente volete modare quello potete tranquillamente farlo però per tutti i possessori di ps4 e xbox one dovrò fare ragazzi un altro account perché non è possibile farlo su quello appunto che avete già quindi ragazzi una settimana dopo appunto di questo video quindi quello che nel giorno in cui state vedendo questo video insomma una settimana dopo quindi nel giorno che verrà pubblicato questo video una settimana dopo verrà fatto ragazzi l'estrazione del contest in live quindi per tutti quelli che già stanno scrivendo nella tastiera ma fox sound ma tu trucchi le estrazioni fox sound tu scegli il vincitore xd xd 1 1 1 dislike dis iscritto io farò ragazzi l'estrazione in diretta quindi proprio io mentre prendo il link del video scelgo con un programma ragazzi apposito per poter fare queste estrazioni in live il vincitore e il fortunato ragazzi vincitore vincerà appunto quest'account moddato quindi nulla ragazzi spero che questo contest vi mi piaccia in tal caso vi ricordo di cercare questo video per supportarmi e di iscrivervi al canale se non siete ancora per non perdervi i prossimi video vi do ragazzi a passare oltre la pagina facebook dove trovate il link in descrizione se volete anche sul profilo instagram che come al solito appunto trovate in descrizione quindi se volete seguirmi ragazzi a me fa soltanto che piacere se vedo ragazzi che i mi piace sono molto quindi se questo contest appunto vi sta piacendo insomma vedo molti like molte visualizzazioni e cose del genere io ragazzi vi porterò più spesso ovviamente non aspettatevi un contest ogni tre giorni ma ragazzi potrò farlo magari ogni uno o due mesi dipende ragazzi tutto da voi se appunto vi piace questa idea quindi allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da fox sound bella vi sia piaciuto noi ci vediamo in un